Bentornati su MyFootballGersey. Quella che vi presento oggi è la prima maglia del Gremium, la maglia di Suarez. Grazie per la visione! La maglia non è niente male, nella mia classifica non spicca prende solo 3 stelle ma veramente fatta bene tra l'altro di uno dei miei calciatori preferiti. Il costo lo vedete qui sopra, come al solito c'è poco da aggiungere, un costo veramente molto basso per una maglia di un'ottima qualità che arriva anche molto velocemente. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.